Sono le renne qua! 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 Vai da Pappo Natale! Oriana vai! Vai da Pappo Natale! Vai da Pappo Natale! Oriana vai vicino a Pappo! Dai! Vai da Pappo Natale! Vai da Pappo Natale! Vai da Pappo Natale! Vai da Pappo Natale! Oriana! Vai da Pappo Natale! Di Pappo Natale! Ora siamo a Pappo Natale! Quando ci siete me lo dite eh! Ci siete? Sì! 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 Antonio! È l'ultimo quello che possiamo vedere! Ok! Arianna! Orianna! Orianna! Vai! 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 Mettiti in braccio! Vai! Uno! Due! Tre! Mi dà il contatto dei bambini! Come si dice? Viva! 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 Marco! descended50! Ho un po' uno once! Èci! Getting to the point! Metto you it! Amato! Ernesto! Are you right? Oh, come… Eh, ma come… Ah-hahi! Is啦! Ma che è un bel edusarlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.